E' stato un ferragosto di intenso lavoro, quello appena trascorso per i poliziotti della squadra mobili di Caltanissetta, che hanno messo a segno una valida operazione antidroga che ha permesso l'arresto di tre persone di San Cataldo, accusate di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate ai polsi di Luigi Mosca, di 46 anni, del fratello Gabriele Mosca, di 42, del cognato Giancarlo Riggi, di 41 anni, tutti di San Cataldo. I tre si erano divisi il compito di mantenere florida una piantagione di marioana, alternandosi in dei veri e propri turni per irrigarla, visto anche il caldo torrido degli ultimi giorni. Già da qualche tempo gli agenti avevano saputo dell'esistenza di una piantagione in borgo furiana, agro di Caltanissetta, riuscendo ad individuare un'azienda agricola che, ubicata su un terreno scosceso ed invisibile dalla strada, poteva ben prestarsi a celare la coltivazione illecita di cannabis. Sono stati così predisposti dei servizi costanti di appostamento attorno all'azienda agricola che hanno permesso di scoprire l'andirvieni dei tre soggetti che, a giorni alterni, si recavano là, per poi dirigersi in direzione di una piantagione di fico d'India che abbeveravano per una cinquantina di minuti. Questa anomala attenzione ad irrigare con tanta solerzia delle piante grasse, alimentato il forte sospetto di un'attività illecita di coltivazione di piante di stupefacenti, dai successivi controlli effettuati dagli agenti, è emerso come, in effetti, nascosta ad occhi indiscreti, vi era una florida piantagione di marijuana. I poliziotti sono riusciti a risalire ai curatori di tale piantagione che venivano individuati nei tre soggetti arrestati quest'oggi. Ulteriori controlli hanno permesso di rinvenire e porre sotto sequestro 68 piantine di marijuana, già floride, ascisce e 15 vasetti in plastica con invasate altre piantine secche di marijuana.